L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aumentato le misure per combattere il virus Zika. Per chi torna dai paesi da dove è presente la malattia, sono consigliati sei mesi di astinenza sessuale o di sesso protetto per evitare qualunque rischio di trasmissione. Prima il periodo era di due mesi per chi non aveva sintomi e sei perché era affetto dal virus. I casi di Zika, oltre che in Sud America, sono segnalati in Asia.